Chi sei? Sono milanese. Vuoi prendermi per il culo? No, se ho il commissario è perfetto. Milanese tu con quell'accento? No, veramente io sono pugliese. Allora perché hai detto milanese? Perché mi chiamo milanese di cognome, Valerio di nome. Nato dove? A Torino. Allora sei torinese? No, mio padre era ferroviere, allora si è spostato da una città all'altra. Io sono nato a Torino, però quando siamo tornati a Biceglia, mia madre... Se non la pianti di dire stronzate, ti sbatto alla ginara. Parola di commissario genovece. Ah, lei è genovese. Cazzo dici? Io sono di Bologna, genovese è il mio cognome. Hai finito sto per male, siciliano? Signor sì. Siciliano? Palermo-Catania. No, perché esiste una lotta fra le due fazioni che dura da secoli e secoli. Ma no, mi sono veneto-veronese. Ah, veronese. Ah, capisco il commissario, un cuore di... Calabrescia, malpitano! Toglietemi dalle palle, sto pugliese di merda! Ma, signor commissario, ma per chi fa così? Ma io che è più addicolata! Fatto digitali, le potenze si vedono! Io non c'entro in questa situazione. Perché non mi lasciate mai finire un discorso?